E' un perfetto Boy Scout. Mi passo in alto. Come? Per il ciclo I duri di Rete 4, Bruce Willis, Halle Berry. Questo non è un gioco. Un eroe dimenticato, pronto a rientrare in azione contro il racket delle scommesse clandestine. Io vi ammazzo in coppia, beh allora ti dovrai mettere in coda. L'ultimo Boy Scout. Stasera, 21.15, Rete 4. Stasera, 21.15, Rete 5.